L'Aula approva a maggioranza la proposta di legge per le distanze minime tra le strutture residenziali soggette ad autorizzazione, le RSA. Un atto ha dichiarato il Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni che nasce dalla convinzione che sui servizi sociosanitari siano necessari una programmazione e un governo regionale in relazione alle esigenze dei cittadini. Nasce da una razza precisa e cioè quella di riacquisire una governance pubblica della programmazione degli interventi per la non autosufficienza. Tant'è che il contenuto, quello fisso che rimarrà di questa norma è l'applicazione del decreto legislativo 502 del 1993 che prevedeva la possibilità delle regioni di introdurre una verifica di compatibilità delle nuove strutture residenziali e semiresidenziali. Cosa in Toscana non era mai stata fatta ma che ora con questa norma introduciamo. Infatti un articolo della norma che abbiamo appena approvato dice che la Giunta dovrà approvare i criteri con i quali darà questo parere. Questo perché vorremmo che ci fosse una distribuzione dei servizi che sia legata ai bisogni dei cittadini e non agli interessi soltanto di alcune imprese. Il SID Italia Viva è stato illustrato dal consigliere Stefano Scaramelli. Un impianto di legge che ci convince, che abbiamo sostenuto e votato. Bisognava migliorare l'adeguamento normativo delle strutture sanitarie in Toscana. Questa norma consente agli interventi una maggiore qualità ma soprattutto una maggiore umanità degli interventi. Questa è la finalità e anche la sostenibilità. Il sistema dell'RSA a Toscana ha bisogno di un livello di sostenibilità, di un adeguato finanziamento ma anche normativa che mettono nelle condizioni chi fa investimenti di poter adeguare le strutture e fare interventi che ovviamente vedano sempre e comunque la persona al centro di queste iniziative. Voto contrario è stato espresso da Fratelli d'Italia mentre Lega e Movimento 5 Stelle si sono astenuti. Noi pensiamo che il mercato dell'RSA, utilizzo questo termine brutto, sia un mercato chiuso. Ci sono 100 posti letto a disposizione e 150 famiglie che hanno bisogno di un posto letto nell'RSA. Questa norma contribuisce a mantenere chiuso quel mercato. Noi pensiamo che non è detto che piccolo sia buono, così come è detto che grande sia cattivo, noi pensiamo che buono sia buono e da questo punto di vista, specialmente in un momento in cui la popolazione anziana cresce, in un momento in cui le famiglie sempre meno sono disponibili a tenere in casa anziani, ci sia bisogno di strutture adeguate, efficienti, moderne, dove ci sono gli strumenti della modernità attuali, molto spesso e non sempre per fortuna. Sono strutture non adeguate, strutture al limite della fatiscienza. All'interno del dibattito ci siamo trovati poi dopo in aula con tanti emendamenti che riguardavano ad esempio aree degradate, che riguardavano le strutture all'interno, i servizi che riguardavano, per cui praticamente hanno allargato il percorso e secondo me l'identità di quella che era la PDL iniziale a tutt'altre funzioni e manzioni. Per cui noi ci siamo astenuti contro... perché il voto di astenzione io non lo concepisco, vi devo proprio la sincera verità, perché siamo stati chiamati qui dai cittadini per decidere, ma in questa circostanza ci siamo ritrovati di fronte allo stravolgimento di una PDL e abbiamo chiesto se la potevamo riportare in Commissione. Così non è avvenuto, ci siamo astenuti, ma questo non vuol dire che non riproporremo in Commissione stessa il percorso di quei punti degli emendamenti che sono stati approvati oggi in aula. Tecnicamente la proposta così come formulata aveva un senso e sicuramente andava a colmare invece un lassismo che c'era stato da parte della Regione precedentemente, un lassismo che è stato anche nei controlli tra l'altro del proliferare di RSA che in alcuni casi appunto si sono andate moltiplicando sul territorio. Però dobbiamo andare a monte della questione, perché nello stesso momento in cui si vanno a guardare dei tecnicismi sulla costruzione di nuove RSA a fronte di una popolazione toscana che sta invecchiando e che ha bisogno di una presa in carico delle persone che vada a guardare anche alla loro quotidianità e che quindi non si riduca semplicemente a costruire o a prevedere di costruire strutture per ammassare in luoghi grandi o piccoli una popolazione che invece avrebbe bisogno di un accudimento e di una cura maggiore. Dobbiamo sicuramente andare a guardare a monte di questo problema, quindi delle RSA e del fatto che ad esempio sono aumentate anche le tariffe per il privato che decide di mandare o ha necessità di mandare il proprio familiare in un RSA. E anche sulla qualità ci sono stati purtroppo dei casi poco edificanti su cui la Regione prima di andare a fare una modifica su questi dettagli avrebbe dovuto vigilare molto di più e sono successi anche molto recentemente. Per non dimenticare ma soprattutto per commemorare gli eroi silenziosi dell'umanità, persone comuni che hanno salvato vite e a cui dobbiamo eterna gratitudine. Così il Presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo ha introdotto l'incontro con gli studenti di Pisa in occasione del giorno della memoria. Per non dimenticare, per dire alle ragazze e ragazzi di non essere mai indifferenti perché quello che è accaduto può accadere di nuovo. Ho scelto di fare questo momento in una scuola per ascoltare il punto di vista dei più giovani perché memoria vuol dire anche attualità, memoria vuol dire fare in modo che non si ripeta quello che è accaduto. Un confronto è una riflessione sui giusti fra le nazioni anche attraverso le pagine del libro scritto da Alfredo De Girolamo, Chi salva una vita in memoria dei giusti toscani. Questa figura di italiano non ebreo che ha deciso di non voltare lo sguardo dall'altra parte ma dare una mano per salvare, mettendo a repentaglio la propria vita tra l'altro, per salvare gli ebrei perché il vicino era colui col quale aveva sempre vissuto perché in qualche modo ha cercato di dare anche un senso alla propria vita. Quindi incontrare gli studenti in un momento come questo, così importante, e trasmettere questo io penso che sia forse il senso più importante. La cultura raccontata dalla generazione Z. 200 studenti di 10 scuole toscane, una per provincia, coinvolti nel progetto Carta d'identità culturale toscana, finalizzato a promuovere la riscoperta della cultura e delle risorse della regione. Il progetto è nato da un'idea del vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli e portato avanti da tutto l'ufficio di presidenza. Un progetto pensato dal Consiglio regionale della Toscana a favore dei giovani, nascerà l'opportunità di un intescambio culturale che andrà a valorizzare l'identità dei nostri territori, la conoscenza di un territorio. Saranno i giovani delle scuole del quarto superiore di varie province della Toscana ad ospitare altri ragazzi. Loro stessi si faranno interpreti di questi percorsi in altri territori della Toscana. È un intescambio che fa crescere l'identità culturale della nostra regione, ma che produce esperienza, produce relazione e produce delle opportunità. Saranno protagonisti gli studi scolastici e i giovani diventeranno loro stessi fruitori di una progettualità innovativa di cui la Toscana, diciamo grazie all'ufficio di presidenza, il Consiglio regionale, produce un elemento di grande innovazione. Tenere insieme la nostra storia, le nostre tradizioni, ma saperle leggere con lo sguardo delle ragazze e dei ragazzi della generazione Z è quello che noi vogliamo proporre oggi insieme all'ufficio scolastico regionale. Permettetemi però di fare un grande ringraziamento al Vicepresidente Scaramelli. Ha voluto questo tipo di progettualità, ci ha lavorato, l'ha vista crescere e ora permetterà a 200 studentesse e studenti delle nostre scuole di poter raccontare attraverso il loro punto di vista, la nostra storia, le nostre tradizioni, la qualità del nostro cibo, cos'è la Toscana. La Toscana è terra di arte, è terra di storia, di cultura, di bellezza, ma anche terra che ha la capacità di saper guardare al futuro. E quindi giovani generazioni che attraverso la loro voce, il loro linguaggio, attraverso i loro occhi possono saper leggere la Toscana del passato, ma anche la Toscana del futuro. Il braccio operativo del progetto sarà la Fondazione Sistema Toscana e a diffondere l'iniziativa sarà l'ufficio scolastico regionale. La Fondazione Sistema Toscana accompagna questo progetto, quest'idea progettuale del Consiglio regionale, del Presidente Scaramelli, del Presidente Mazzeo, rendendolo esecutivo, soprattutto nella parte di formazione dei giovani nelle scuole che poi viaggeranno, quindi accompagnarli nello sviluppare l'idea di identità toscana della propria provincia da comunicare ai ragazzi delle altre province. Quindi accompagneremo in fase formativa, accompagneremo durante i viaggi i ragazzi in maniera tale da istruirli anche su come redigere al meglio e preparare i documenti, i web document, diciamo tutta la strumentazione dei social e redigeremo un web document finale che poi resterà a beneficio dei prossimi passaggi e infine, oltre alla parte di comunicazione e informazione del progetto, cureremo la giornata finale conclusiva al Cinema La Compagnia, al Cinema Teatro La Compagnia dove i ragazzi si incontreranno e ci sarà un momento diciamo istituzionale di restituzione dei risultati del progetto. Il progetto che rientra in un più ampio spettro di attività che coinvolgono e questa grande collaborazione tra l'ufficio di presidenza, in questo caso di vicepresidenza del Consiglio regionale della Toscana e l'ufficio scolastico regionale, è un progetto rivolto alle studentesse, agli studenti delle scuole superiori. Il numero 10 ricorre più volte, quindi saranno le 10 province, 10 scuole, 10 attività e 10 anche scambi culturali che prevedono dei viaggi dove ogni scuola si porterà con il proprio progetto, con la propria esperienza all'interno degli altri territori. Si tratta di una modalità molto interessante e supportata in cui crede tantissimo anche l'ufficio scolastico regionale poiché è una didattica innovativa, una didattica molto fresca rivolta alle nostre studentesse e ai nostri studenti che va nell'ottica dello sviluppo di questa identità culturale che riguarda sia la conoscenza di noi stessi sia quella dell'accoglienza degli altri e lo sviluppo di quelle che sono le realtà più importanti della nostra regione. Il Corecom Tour prosegue, quarta tappa a Grosseto per l'iniziativa promossa dal Comitato Toscano per le comunicazioni volta a far conoscere e spiegare diritti e prerogative dei cittadini nel mondo delle telecomunicazioni. L'incontro si è tenuto nel Palazzo della Provincia, coordinato da Marco Meacci, presidente di Corecom Toscana, con gli interventi della consigliera Corecom Carlotta Agostini e del presidente della provincia di Grosseto, Francesco Limatola. L'obiettivo nostro come Comitato Corecom che si è insediato da poco, quello nuovo, è quello appunto di far conoscere le tante funzioni e le tante attività del Corecom che spesso non sono totalmente conosciute alla popolazione della Toscana e all'istituzione. Per cui abbiamo deciso di uscire da Firenze, di uscire dalla sede nostra e di andare in giro città per città in tutta la regione in modo da far conoscere le funzioni principali, a partire da quella di vigilanza in senso lato della programmazione radio-televisiva, degli organi di informazione, ma anche tante altre funzioni che sono anche delegate dall'Agecom. Penso per esempio a tutto il discorso della media education, del patentino digitale che è questo corso che facciamo ai ragazzi delle prime medie della Toscana, online sull'uso consapevole dei social e del web e poi per esempio un'altra grande attività non sempre totalmente conosciuta però che ha un grande lavoro è quella del tema delle conciliazioni rispetto alle controversie telefoniche. Quando un cittadino, un'impresa, un'associazione è in difficoltà rispetto appunto ai gestori telefonici può rivolgersi gratuitamente al Corecom che svolge una funzione di conciliazione e basta pensare che siamo già giunti a 100.000 istanze in tutti gli anni di attività e questo consente ai cittadini di non essere soli in questa battaglia spesso solitaria e spesso di difficoltà ma appunto di avere un punto di riferimento importante. Poi tante altre attività legate alla valorizzazione delle buone pratiche della comunicazione in Toscana, le campagne sociali, la valorizzazione delle miglior tesi di laurea in comunicazione e tante altre attività che stiamo cercando di portare avanti. Noi stiamo proprio andando in giro e nel territorio per ascoltare per cui l'occasione è proprio quella in prima istanza di ascoltare quelle che sono le esigenze. Noi faremo successivamente anche delle audizioni formali degli operatori dell'informazione, stiamo lavorando agli stati generali della comunicazione per cui anche in questa sede cerchiamo di capire quali sono le esigenze. È chiaro che in questo momento il mondo della comunicazione da alcuni anni sta vivendo un processo di sviluppo molto veloce, molto dinamico, ci sono tante problematiche e cerchiamo di capire in qualche modo come possiamo rilanciarle sia sul piano del governo regionale sia sul piano del governo nazionale. È stato detto tutto, noi siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo, il Corecom Tour che sta avendo un buon successo e ci sembra importante farci conoscere in tutte le province della Toscana. abbiamo avuto un grande successo con il premio comunicatore toscano dell'anno che è stato consegnato lo scorso dicembre a sei giornalisti toscani impegnati sui fronti di guerra più caldi. È stato dato anche il premio per la miglior tesi di laurea che viene data tutti gli anni fra le università toscane per la miglior tesi in comunicazione. È stato dato il premio pochi giorni fa per la Toscana che fa bene, alle associazioni di volontariato che più si impegnano in Toscana sono tantissime e adesso a breve avremo un incontro per dei giovani a Firenze dove li faremo incontrare con dei professionisti per parlare dell'hate speech, della violenza di genere. Insomma stiamo cercando di far conoscere sempre di più il Corecom ed avvicinare anche sempre di più maggiormente il Corecom a quelli che sono i nuovi media dei quali ultimamente anche Emessa ne sta parlando molto quindi troviamo che sia nostro dovere impegnarci sempre di più per conoscere questi media e imparare tutti insieme ad usarli consapevolmente. Oggi è una giornata importante perché il Corecom è un comitato importante che svolge attività di consulenza e di gestione in materia di comunicazione per la regione e quindi svolge anche compiti e servizi utili alla cittadinanza, alle persone, alle famiglie, alle imprese in materia di risoluzione delle controversie in tema di telecomunicazioni piuttosto che l'impegno nel diffondere una cultura digitale in grado anche di migliorare la navigazione sui social. Quindi è una giornata importante e per questo la provincia ha messo a disposizione la Sala Pegaso e la collaborazione insieme anche a Lupi per questo importante momento. Grazie per la visione!